Fit Blitz, un programma di Polina Ferrari E io sono Polina Ferrari Vediamo l'esercizio che si chiama Tricipite alla carrucola alta Magni in pronazione Ci mettiamo in piedi e fronte alla macchina Le mani sull'impugnatura Gomiti lungo il corpo Inspirare ed estendere le avambracce Facendo attenzione a non staccare i gomiti dal corpo Espirare al termine del movimento Questo esercizio di isolamento Sollecita il tricipite E l'anconeo La variante realizzata con una corda Al posto dell'impugnatura Sollecita più intensamente il capo laterale del tricipite Effettuando il movimento con le mani in supinazione Si trasferisce parte dello sforzo sul capo mediale Una contrazione isometrica di 1-2 secondi Alla fine del movimento Permette di avvertire bene lo sforzo Con un carico pesante E consigliabile per una maggiore stabilità Inclinare il busto in avanti Molto facile da eseguire questo esercizio Può essere usato dai principianti Al fine di acquistare abbastanza forza Per poi passare a movimenti più complessi Per poi passare a movimenti più complessi Per poi passare a movimenti più complessi